Con la madre farmacista originaria di Monteverde in Irpinia c'è anche un pezzo di Campania nella vita di Mario Draghi che ha accettato con riserva l'incarico del presidente Mattarella di formare un governo di alto profilo per uscire dalla crisi politica del paese. 73 anni, figura di grande spessore, ex presidente della Banca Centrale Europea, Draghi divide però i cittadini campani. La paura di molti, a cominciare dal parere autorevole di Gianfranco Rotondi, è che si viva una stagione di austerità, sull'esempio di quello che fu l'esecutivo Monti. Anch'io me ne preoccupo un po', quindi saremmo attenti a sorvegliare che questo non avvenga. Io non ho votato la fiducia a Monti. L'Italia potrà essere proiettata in una fase con lui di austerità e di maggiori entrate fiscali. Io non sono mai per i governi tecnici, io sono sempre per i governi politici che possono dare un'impronta ben precisa nell'azione di governo, quello che ci vorrebbe in una fase così delicata come quella che stiamo vivendo. Ci ammazzano, i tecnici ci ammazzano, che non devono dare di conto a nessuno, quindi ci faranno nuovi, nuovi. Ma c'è anche chi pensa che sia l'uomo giusto per dare una svolta al paese. L'unica persona seria che può salvare l'Italia, noi abbiamo bisogno in Italia di persone serie e qualificate. Credo che possa ridare all'Italia quella giusta considerazione internazionale. È una persona di esperienza, capace e quindi diciamo che il problema lo può risolvere. Speriamo che lavori bene, gli diano spazio, credito e soprattutto che non facciano cacciare tutte le forze politiche.